E' Paolo Costantino del PD, il candidato sindaco del centro-sinistra a Ginosa e la sua Marina. E' quanto sancito dalle primarie con 1.172 voti per Costantino, 951 per Carmen Carlucci di Conn e 144 per Antonio Pupino del PD. Una grandissima partecipazione con quasi 2.300 ginosini e marinesi che sono venuti a votare e che hanno dimostrato, ancora una volta che lo strumento delle primarie fa parte del DNA del centro-sinistra e che quando il centro-sinistra si rivolge ai cittadini per scegliere la leadership fa sempre una cosa gradita e dimostra che la politica si fa con le porte aperte dei circoli e con la grande partecipazione popolare. Per Massimo De Luca una grande festa di partecipazione popolare. Le tantissime persone alle urne dimostrano la voglia di partecipazione e condivisione. E' stata una grande festa di partecipazione popolare, abbiamo portato alle urne tantissime persone che testimoniano una voglia di partecipazione e una voglia di condivisione. Da qui partiremo per dare forza e coraggio al nostro progetto che ha nella figura di Carmen il nostro appunto di diamante e sono sicuro che intorno a lei costruiremo un futuro per la nostra comunità. A conclusione delle primarie, per il consigliere regionale Gianfranco Lopane l'augurio va al vincitore Costantino e dal tempo stesso grande riconoscimento alla maturità politica di Carmen Carlucci. Faccio i miei più cari auguri a Paolo Costantino per la vittoria e spero che di qui si parta affinché si possa ottenere un centro-sinistra unito e soprattutto si possa pensare al futuro del nostro territorio e dei nostri cittadini e cittadine.